Ritorniamo insieme, cara Paola, e dalla musica ci spostiamo al mondo della letteratura, dei libri. Lo facciamo con la nostra cara amica Carla Bonfitto e la sua rubrica L'angolo di Pagine d'Autore. Benvenuti all'angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Oro puro di Fabio Genovesi. Ecco, questa era lei, la prima riga della pagina, liscia, pulita, bellissima, su quell'isola che finalmente avevamo raggiunto e dove speravo di restare per sempre. Se per sempre ci restava lei. Ma l'ammiraglio dettava piani diversi. Quel pomeriggio dalle barche avevamo avvistato altre isole non distanti. Gli indigeni le indicavano nominandone almeno cento. E in qualche modo lui aveva messo insieme la loro lingua, i loro gesti misteriosi, fino a capire che in quelle terre viveva un re ricco e potente, capo di un altro popolo di cui loro avevano terrore. E là c'era tanto oro che ognuno portava grandi bracciali al collo, ai polsi, ai fianchi e alle caviglie. Quindi l'ammiraglio era grato a questa prima isoletta che dopo tanto navigare e tanto sperare ci aveva salvato la vita. E infatti l'aveva chiamata San Salvador. Ma adesso era tempo di cercare oltre. Il Cipango, il Catai, il cuore nobile dell'Oriente. Lasciandoci dietro questo pezzetto di terra, il nome che le aveva dato. La croce di legno piantata dove la spiaggia si alzava dal mare. E lei? Pensavo io. Lasciandoci dietro lei. Non l'ho scritto, ma ce l'avevo nella testa, nel cuore, ovunque. Finora l'idea di partire e non rivederla mai più mi sembrava quasi un sollievo. Adesso solo il pensiero mi spegneva il respiro. Mi sono dovuto fermare. La penna posata accanto al diario. Fabio Genovesi è nato e vive a Forte dei Marmi. Dopo l'esordio con due libri, Morte dei Marmi e Versiglia Rock City, ha conosciuto un successo via via crescente con i romanzi Esche vive, Il mare dove non si tocca, Chi manda le onde, Premio strega giovani, Cadrò sognando di volare, Il calamaro gigante. E' voce culturale delle telecronache RAI al Giro d'Italia e collabora con Il Corriere della Sera e il suo settimanale La lettura. Fabio Genovesi è stato ospite della quinta edizione della rassegna Pagine d'autore con il romanzo Oro puro edito da Mondadori, uno dei romanzi più belli del 2023, un romanzo dalla rara bellezza. ambientato nel 1492, è sì un romanzo storico, ma è anche un romanzo di formazione e soprattutto un romanzo d'amore. In realtà in questa storia c'è tutto un mondo da scoprire. Noi ce ne accorgiamo, a mano a mano lo leggiamo, perché ci sentiamo parte di questa storia. La narrazione è affidata a Nuno, ma in realtà viene raccontata quando lui è già avanti negli anni. Nuno è un ragazzo di 16 anni e mezzo e vive a Palos, nella Spagna meridionale, vive con la madre e la zia a Blanca. Con la madre ha un rapporto speciale e riceverà proprio da lei una grandissima eredità, quella di saper scrivere, ma soprattutto di saper osservare ciò che lo circonda e le persone. Perché scrivere non è scrivere, è vivere, sentire e trovare, prendere e dare. Con Oro puro si attraversa la storia ricca di personaggi ed eventi. Nuno e Ebreo e Cattolici Reali di Spagna concedono di convertirsi fino a luglio, altrimenti in un modo o nell'altro dovranno lasciare la Spagna o peggio ancora trovare la morte. Allora Nuno decide di imbarcarsi, si imbarcherà sulla caravella alla Santa Maria e qui incontrerà l'ammiraglio Cristoforo Colombo. Quale sia la destinazione, non si sa, non la sa Nuno, ma in questo viaggio rocambolesco non mancheranno i colpi di scena e soprattutto tanta commozione pura e sincera nell'incontro tra Nuno e lei, una ragazza bellissima. È difficile descrivere questo amore tra Nuno e lei, tra questa ragazza, perché viene descritto in un modo meraviglioso dall'autore. Quindi bisogna accostarsi a questa storia delicatamente con tanto rispetto, quel rispetto che meritano le grandi storie d'amore. Molteplici poi sono le riflessioni incastrate, proprio incastrate nelle pagine di questo romanzo tra le voci di chi è andato alla ricerca dell'oro e di chi invece ancora oggi non ha compreso quale sia la più grande bellezza, la più grande eredità che sia stata donata a noi uomini. E allora Fabio Genovesi commuove ancora una volta con questo romanzo e in lui tutto è poesia, tutto diventa poesia e ricerca interiore, una grande anima poetica. E allora leggiamo Oro puro di Fabio Genovesi. Se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it o scrivetemi alla mail o ancora mi trovate sui canali social Facebook e Instagram. Buona lettura. www.paginedautore.it